Vicini sulla carta e sulla mappa, con i primi banchetti odierni, uno in via delle torri per la Lega e uno in largo barriera vecchia per il Movimento 5 Stelle, anche a Trieste e provincia sono partiti il gazebo per illustrare e spiegare il contratto di governo tra Carroccio e Pentastellati. I leghisti hanno avviato un referendum per capire l'umore dei cittadini riguardo alla volontà di vedere portato avanti questo accordo. I grillini si sono attrezzati per illustrare punto su punto ciò che prevede il documento. Ci pare giusto interpellare il popolo, ci pare giusto interpellare i cittadini su un programma che è stato fatto ex novo ma che raccoglie molta parte di quel programma che era stato proposto il 4 marzo dal centrodestra come programma di governo. Abbiamo ritenuto opportuno informare la cittadinanza di questo contratto che dovrebbe dar vita al nuovo governo nazionale. Ieri sul portale del Movimento 5 Stelle c'è stata la votazione, il 94% hanno votato sì a questo contratto e quindi noi siamo pronti e ci auguriamo che presto le cose possano cambiare per l'Italia. Adesione modesta per entrambi i banchetti in una mattinata aiutata dal bel tempo. I cittadini stanno rispondendo bene perché l'alternativa a questo è magari un governo tecnico come quello che ci è stato proposto negli ultimi anni e quindi in qualche maniera la gente vuole qualcosa di nuovo e soprattutto qualcosa di più che dia speranza ai cittadini e che dia speranza alla gente. Questa mattina molto bene, ci sono persone che si fermano per chiacchierare non solo ovviamente del contratto ma noi siamo abituati a questi banchetti, a queste manifestazioni, a questi eventi perché riteniamo giusto stare in strada e avere il contatto con le persone non solo in campagna elettorale ma sempre. Banchetti della Lega anche domani dalle 9 alle 13 in via delle Torri e a Muggia dalle 10 alle 13 in piazza Marconi, per il Movimento 5 Stelle in piazza Cavana dalle 10 alle 13 e in via nazionale Opicina dalle 12.30 alle 16.30.